Non so decidere se voglio essere una bambola o un unicorno. Perché non entrambi? Wow! Oh, è Chelsea! Wow! Wow! Chelsea e Chelsea. Che forza! Grazie, Steve! Quest'isola ci permette di essere tutto ciò in cui crediamo. Perciò possiamo essere la versione migliore di noi! Wow! O magari le versioni migliori di noi. Che spasso, Chelsea! Oh! Purché ricordiate cosa dice l'indovinello. Esplora ogni parte della tua personalità. Oh! Wow! Wow! Ma non dimenticare chi sei. Dimenticare chi sei? Vai! Noi siamo le cuties. Amiamo le opzioni, ma siamo fedeli a noi stesse. Guardate qui! Oh! Mai dimenticarsene! Tocca a me! Tocca a me! Wow! Che forza! Malibu! Barbie! Io? Wow! Wow! Crescente! Oh! Ho immaginato di essere una scimmia! Ed ora eccola qui! Insomma, eccola qui! Beh, eccoci qui! Visto! È divertente provare cose nuove, ma attenzioni a non esagerare! Nessuno vuole un panino con poco burro d'arachidi! Burro d'arachidi! Sul serio, fate attenzione! Non avete letto tutto l'indovinello dell'isola? Hai ragione! Forse tre e me vanno bene per ora! Non riesco a smettere di immaginare più versioni di me! Ho pensato che duplicandomi avrei potuto valutare più opzioni! Ma più provo a essere di tutto e più è difficile essere me stessa! Oh no! Oh, Elfie! Va tutto bene! Barbie, riesci a prenderla? Anzi, a prenderle? Io forse no! Ma noi sì! Oh, Chelsea! Barbie! 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 Chelsea, ricordati chi sei! Sono Chelsea! Sono audace, buffa e creativa! Adoro gli scherzi, il nuoto, i miei amici e la mia famiglia! Ha funzionato! È tutto ok, ci siamo solo noi! Aspetta! Ci siamo solo noi! Barbie! Skipper! Stacy! Posso essere così tante me! Ma da ora in poi, chiunque io sia, metterò sempre prima i miei amici e la mia famiglia! Andiamo a cercarle! Yeee! Hai dimenticato che non sei più un unicorno? Ok, baia dell'immaginazione! Abbiamo perso Brooklyn, Stacy e Skipper! Cosa possiamo fare adesso? Dacci un segno! Tu sei isola, questo sì che è un segno! Ci ricorda che quello in cui crediamo diventa quello che vediamo! Quando abbiamo liberato la nostra immaginazione, i nostri amici e cari sono stati trasportati via... Da noi! Ma se la nostra immaginazione le ha trasportate via... La nostra immaginazione può riportarle indietro! Così! Che grande amica cosa voglio di più! Che grande amica cosa voglio di più! Chi mi conosce sai sei tu! Per te sarò qua! Io credo tanto nel bene e vero tra noi! Sarò sempre qua! Di nuovo insieme se lo vuoi!